we bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video io sono xyuder e ragazzi finalmente è arrivata la patch 12.41 esattamente alle 8 di questa mattina una patch che veramente ha un sacco di cose interessanti al suo interno e non è proprio un fix perché essendo la 12.41 si considera come un aggiornamento della 12.40 ma bensì ha un giga da scaricare per pc e qualcosa di più per console 550 mega invece da switch ma prima di andare a vedere tutto quello che c'è dentro voglio ringraziare tutti i ragazzi che ogni giorno mi supportano nello shop con il mio codice creator xyuderone grazie mille ragazzi per il vostro sostegno mi raccomando non dimenticatevi di iscrivervi ai miei canali e di attivare la campanella per non perdere nessuna notifica sui miei video news e quindi andiamo a vedere subito ragazzi il pack uno dei pack decriptati di questo di questo aggiornamento come vedete è lo stage 2 del palco di travis scott il mega evento l'astro world che hanno liccato già nelle ore di ieri e che piano piano ci fa vedere tutto quello che dovremmo aspettarci come vedete abbiamo anche la foto del main stage questo sarà proprio il palco principale dove travis si esibirà probabilmente in diretta dalla sua postazione come è successo con marshmallow con tutto il mondo collegato andando avanti abbiamo delle altre parti che avevamo già visto per lo stage 2 ma quello che in tutti vogliamo vedere ragazzi è proprio sbadabam la skin di travis l'avevamo già vista quasi un mese fa vi ricordate chi ha guardato i miei video news quell'immagine un po sfocata che sembrava fatta con il cellulare e ci avevamo preso ragazzi ci avevamo preso la skin è questa come vedete avrà una variante che non si capisce bene la differenza in realtà in questa immagine e verrà accompagnata da un'altra skin una specie di astronauta che sulla parte alta ha il logo appunto di questo evento di questo concerto di travis e che va un attimino a riprendere se guardate bene nella sua fase in alto il pianeta terra infatti si parla molto del pianeta terra nella sua nella sua canzone abbiamo un'altra immagine meravigliosa questa dovrebbe essere la seconda variante che ancora ripeto non capisco bene che cavolo abbia di differenza dalla prima ma quello che invece ci interessa è questo nei file di gioco è stata trovata anche una terza variante segreta della skin di travis come vedete diventerà anche un robot qualcosa di veramente incredibile non sappiamo quando verrà inserita in che modo verrà inserita però sappiamo che c'è e queste immagini ancora non è ovviamente ufficialmente detta in game andando avanti ci sono anche le schermate di caricamento che verranno regalate completando delle missioni molto semplici che arriveranno appunto in questi giorni ve ne ho già parlato nel video di ieri la prima ragazzi molto molto bella e come vedete è stato già un pochettino spoilerato quello che vi ho fatto vedere perché mezza faccia di travis è come vedete un robot andando avanti abbiamo un'altra delle schermate di caricamento che ci verrà regalata molto colorata molto psichedelica per concludere poi con la terza che è proprio l'essenza dell'astronomical world tour appunto un astronauta che nello spazio viaggia a cavallo di un vinile tanta tanta roba andando avanti ragazzi abbiamo anche in questa batch una variante per accordo potente diamo un'occhiata il colore dei capelli e tutti i particolari viola sono stati trasformati in verde acido ovviamente anche la sua chitarra quindi tanta tanta roba per chi ha questa skin potrà ottenere gratuitamente ovviamente lo stile andando avanti abbiamo degli altri premi che arriveranno con travis lo spray questi sono regalati e ragazzi lo spray del dell'astronauta che abbiamo visto un altro spray un occhio tentacoloso molto ambiguo ma molto carino fa molto anni 90 street roba mi ricordo quando un ragazzino li vedevo disegnati sui muri e andiamo avanti invece lo standardo anche questo verrà regalato completando le sfide che adesso vi faccio vedere proseguiamo quindi parlando proprio del travis scott astronomical il set di sfide un totale di tre che ci daranno appunto dei premi la prima ci chiede di ballare per 10 secondi sul palco allo yacht di apres sky non vi preoccupate ragazzi vi farò tutti i video tutorial ovviamente sul canale quindi non abbiate paura ci regala il primo loading screen andando avanti abbiamo bounce off dovrebbe essere salta sopra boh su diverse giant astro e ci saranno appunto delle teste giganti di astronauti ci regaleranno dopo averlo fatto per cinque volte lo spray dell'astronauta e completiamo con visitando lo stage nord di sabbie sudate quindi il main stage in poche parole ci darà proprio lo standardo al completamento di tutte queste skin otterremo il ballo di travis e volevo proprio farvelo vedere ragazzi questo ballo molto velocemente insieme alla skin vi lascio un secondo vi faccio vedere il ballo porca misera non state vedendo il ballo non lo state vedendo vediamo se lo vedete non lo stavate vedendo quindi come avete visto ragazzi molto carino sia il ballo avete visto anche dietro che aveva una roba colorata di rosso ecco quello è il backpack di travis ed è proprio questo qua un backpack veramente molto particolare unico direi nel suo genere che in poche parole è composto da due scritte che dovrebbe essere appunto la società o comunque la persona che ha creato in game tutto quello che stiamo vedendo dedicato all'evento andiamo avanti perché abbiamo anche invece un altro backpack veramente meraviglioso ricco di particolari proprio il backpack dell'astronauta quindi dell'altra skin che arriverà è un backpack creativo e secondo me più si va avanti e più si apre e mostra appunto il nucleo rosa al suo interno arrivano anche degli altri balletti in questa nuova patch e una copertura e quel piccone lì secondo me avrà uno stile per un piccone che già abbiamo perché credo che sia un piccone del pass battaglia ma sinceramente non mi viene bene in mente quello che ci interessa è il balletto e quello che ci interessa è la copertura che arriveranno nello shop andando avanti ci sono notizie importanti per chi non ha per caso ottenuto il lava legends pack come è successo qualche settimana fa con il frozen legend sembrerebbe che stia per tornare anche questo pack che se non ricordo male season 8 quindi per un periodo limitato di tempo potete avere la possibilità di riacquistarlo e di inserirlo nella vostra collezione proseguiamo perché questo invece è il background che avrà la lobby non dovrebbe essere ovviamente in bianco e nero questa è semplicemente un'immagine trovata nei file di gioco e come vedete ovviamente richiama evidentemente il tema astronomi astronomico spaziale e tutte quelle cose lì qua invece il nuovo poster che verrà trovato più spesso in mappa nelle varie città sulle varie staccionate con le date del concerto vi invito ad andare a dare un'occhiata al sito ufficiale di fortnite dove ci sono le news in modo da capire l'orario esatto anche perché è importante partecipare ai concerti per ottenere gli altri premi quindi le schermate di caricamento ma soprattutto il deltaplano che è veramente meraviglioso siamo quasi in chiusura ragazzi un'altra skin di cui non vi avevo parlato che arriverà invece con questa patch invece rimaniamo sulla storyline principale del gioco perché rimaniamo sulla storyline perché come vedete sul braccio ha un logo che già abbiamo avuto modo di vedere nelle varie season di fortnite la skin si chiama rue e ha uno stile addirittura personalizzato in chiusura ragazzi ecco qua varie angolazioni della skin dell'astronauta davvero coloratissima come vedete il suo backpack in questa fase è praticamente completato quindi credo che sia proprio la fase finale quando arrivate in endgame e la colorazione di tutto l'astronauta è veramente curiosa perché cambia anche lì probabilmente in base a quanto resistete nel gioco insomma ragazzi tantissimi aggiornamenti su questa patch 12.41 e ovviamente trevis era il fulcro di tutto quello che ci stiamo aspettando io vi ringrazio per avere guardato questo video della patch ricordo a tutti i ragazzi che mi stanno guardando in live su twitch che non me ne sto andando mando solamente la chiusura noi ci vediamo proprio adesso in live su twitch ciao